Se lo farebbe il test della saliva? Subito, sì sì. Secondo me è l'utile, può essere meglio, più veloce magari? La cosa che può aiutare lo farò, veramente, sempre per il bene della gente, perché tanta gente non lo crede ancora. Il test così rapido che uno si può fare va bene? Sì, non è che bisogna aspettare che uno abbia la febbre o dei sintomi per fare il test, così almeno si fa anche prima senza dover aspettare chissà quanto. Penso che sia anche giusto, cioè non è bisogno di aspettare una settimana o più per avere la conferma se sei positivo o no, quindi un test veloce è necessario. Le cose fatte da sei medesimi secondo me non hanno senso, ecco, questa è la mia opinione, per cui ritengo che si debba fare i test, però che siano fatti da persone che siano competenti. Potrebbe essere una cosa che accorcia alcuni tempi che al momento stanno mettendo in difficoltà, soprattutto c'è aziende che magari hanno un caso positivo in azienda e devono naturalmente tenerlo a casa, dicono, quei 15 giorni o quei 4-5 giorni preventivi. Potrebbe essere utile, dico potrebbe, però il futuro non lo sa nessuno, quindi è una cosa col punto di domanda. Se ha una validità il fatto che riesci ad avere una risposta nel breve tempo e sai se sei libero o no, per me sarebbe una cosa importante. Aspettare un bel po', anch'io sono andata in vacanza, non sai, stai lì un po' attento, invece così sarebbe una cosa interessante. Se lo trovassi in farmacia lo comprerebbe? Sì, sì, certo, certo.